La tragedia dell'archivio di Stato, costata la vita a due impiegati, Piero Brugni e Filippo Bagni, è tornata nelle aule del Tribunale di Arezzo per la prima vera tappa della lunga udienza preliminare ed è stato subito il turno dell'accusa, sostenuta in aula dal PM Laura Taddei, che ha chiesto il rinvio a giudizio degli imputati, 13 in tutto, tra questi il direttore Claudio Saviotti, l'ex direttrice Antonella D'Agostino, il vice comandante dei vigili del fuoco dell'epoca Antonio Zumbo, i dirigenti dell'Igeam, l'istituto incaricato di vigilare sulla sicurezza dell'archivio e del sistema antincendio. L'ipotesi della procura è infatti quella che il malfunzionamento dell'impianto, il cui rilascio di gas provocò la morte dei due il 20 settembre 2018, sia stato innescato da un vetrino non originale e da una valvola montata al contrario di cui nessuno si era accorto nella catena di vigilanza. Quella mattina infatti non c'era fuoco da spegnere e il falso allarme, come stabilito poi dalla perizia, scattò perché l'impianto era gravemente difettoso. Si tornerà adesso in aula il prossimo 9 marzo, quando sarà il turno delle difese che contestano decisamente l'ipotesi della procura. Nella scorsa udienza intanto i familiari delle vittime si erano costituiti per te civile. La decisione del GIP Claudio Lara sul rinvio a giudizio degli imputati è attesa per aprile.